Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In collaborazione con il Marchese Bianconero abbiamo fatto tre top. Una top ten dei cattivi dei film horror, potete vederla tranquillamente sul suo canale, poi abbiamo fatto due top five. Quella che vi illustro oggi è la top five dei cinecomics o comunque dei cartoni animati, cioè i cinque peggiori cattivi dei cartoni animati. Al quinto posto Lex Luthor, il nemico numero uno di Superman. Insomma, direi che non c'è bisogno di presentazioni, accompagnato tutta la saga di Superman dall'inizio fino alla fine, quindi assolutamente uno dei nemici peggiori della storia dei cinecomics. Al quarto posto ci mettiamo Freezer, uno dei cattivoni di Dragon Ball, un cattivo amatissimo, amatissimo, comunque molto rispettato come cattivo, perché è uno sicuramente dei cattivi più iconici della serie di Dragon Ball Z. Potremmo menzionare anche altri, Cell, Majin Buu, anzi io preferisco personalmente Cell come saga generale a questi tre, appunto Freezer, Cell e Majin Buu. Però effettivamente Freezer è il primo forte, cattivone forte, 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 che vediamo su Dragon Ball, il cattivo più iconico perché è un alieno, un altro alieno, uno di tanti, che viene battuto sul pianeta Namek, che poi viene distrutto insieme a lui, e poi lo ritroveremo dopo, torna sulla Terra dove viene sconfitto da Trunks, e lo vediamo anche dopo quando c'è la saga sugli inferi. Quindi è un cattivo che ritorna più e più volte, anzi lo vediamo anche in Dragon Ball Super, quindi è una cosa veramente sensazionale. Poco il fatto che è riproposto in più occasioni è perché è piaciuto, perché è iconico, e perché resta il cattivo per eccellenza di Goku e dei suoi amici. Quindi Freezer, secondo me, è quello che va menzionato in un top 5 di questi cattivi dei cinecomics barra cartoons. Al terzo posto Thanos. Qua invece andiamo sul fumetto Marvel, quindi un cattivissimo, volenteroso di distruggere tutto, Terra, pianeta e universo, insomma, nemico per eccellenza di tutti i supereroi Marvel, e appunto degli Avengers in particolare. Ci siamo molto fossilizzati in qualche modo sull'iconicità di questi personaggi, non facendo una classifica di quelli che sono i più forti, questo è un'altra cosa, questa la potremmo anche vi proporre. Guarda piuttosto su quanto siano iconici e quanto sia pesante il loro essere cattivo all'interno del film in cui sono rappresentati. E mettiamo adesso, parlando di cartoon, un cattivo non umano, ma neanche alieno, ma animale, che è Scar, lo zio di Simba, il fratello del re. Perché questa classifica? Perché è il cattivo per eccellenza di quel film, Tra le leone, ed è quello che ci ha accompagnati come cattivo, un po' come il film stesso, in tutta la nostra infanzia, per chi è nato comunque negli anni 80 e 90, e che ha vissuto da bambino, da ragazzino, quel film. Quindi sicuramente Tra le leone è un film cult, l'animazione è cult, un cartone cult, e il cattivo al suo interno, che è Scar, che è fatto molto bene, diabolico, fatto al punto giusto, pur essendo umanizzato, pur essendo animale, sicuramente va messo in una classifica come questa, e lo mettiamo al secondo post, perché Scar è riconosciuto da tutti come uno dei più tosti, come vedete, in un contesto totalmente diverso, perché animale, però mi piace pensare che questo cattivo sia in qualche modo passato tra i più cattivi del cinema di tutti i tempi, perlomeno dei tempi moderni, diciamo così, quindi ce lo mettiamo al secondo posto, questo leone sicuramente non buono, così come invece li vediamo per quanto riguarda gli altri protagonisti del film. E al primo posto, se mi avessero detto scegliti un cattivo, per antonomasia avrei scelto sicuramente lui, Joker. Il Joker, la nemesi di Batman, il più importante e cattivo probabilmente della DC Comics e del mondo dei fumetti in generale, dei supereroi, assolutamente Joker, stravince a primo posto per crudeltà, cattiveria e senso soprattutto di ingiustizia che semina in tutta Guatan City. Allora qui, questo video della top 5 dei cinecomics più cattivi, quindi personaggi più cattivi dei cinecomics e dei cartoni animati in generale, io vi ricordo, abbiamo fatto anche la top 10 dei peggiori cattivi o migliori cattivi, vedetela come volete, dei cinema horror, la trovate sul canale del Marchese Bianconero, ovviamente sotto, qui nei commenti, abbiamo ovviamente il link e abbiamo fatto anche un altro top 5 sempre sul mio canale, top 5 degli altri cattivi, anche qui il link è qua sotto. Ciao ragazzi, al prossimo video!